La direzione dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari ha deliberato il progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione urgente e adeguamento dei locali del pronto soccorso dell'ospedale della Santissima Annunziata. Sala d'attesa più ampia, spazi riservati ai codici verdi, nuovo ingresso da Via L'Italia, ristrutturazione edilizia sono le trasformazioni previste dal progetto che andrà in gara d'appalto dopo la redazione della manifestazione di interesse da parte dell'ufficio tecnico dell'azienda ospedaliera universitaria. 175.000 euro le risorse stanziate con l'intento di rendere più agevole e confortevole il soggiorno dei pazienti in attesa dell'intervento di soccorso sanitario. Schermi video per intrattenimento e comunicazioni interne, luoghi e bagni dedicati ai disabili, pavimenti nuovi e controsofitti dotati di sensori antifumo sono alcune delle modifiche previste. Ridurre le code e razionalizzare le liste ad attesa è uno degli obiettivi indicati dalla regione per la missione dei supermanager sanitari e l'intervento di Sassari è pensato in quella direzione. Difficile però che gli adeguamenti, a parte la sala dei codici verdi controllata visivamente dal personale medico, possa accelerare sensibilmente le operazioni di ricezione e di avvio ai reparti dei pazienti, perché il sistema non cambia. Si spera che questi necessari miglioramenti portino, almeno in un primo tempo, a rendere meno penosa l'attesa degli utenti. E il tutto, come ha detto Mario Hoppes, direttore del pronto soccorso di Sassari, in attesa di una struttura di prima accoglienza del tutto nuova, progetto che è già nei programmi della AOU.